Flopper e trasporto urbano a Sulmona. L'episodio che è riacceso tutte le polemiche si è verificato nel fine settimana quando un bus che fa parte del parco mezzo in dotazione al comune di Sulmona è andato in avaria nei pressi di Porta Pacentrana. Lì è rimasto con tutte le conseguenze del caso per la gestione del traffico e la tutela della pubblica incolumità. La rimozione è avvenuta solo questa mattina dopo ben 48 ore. A scattare l'amara fotografia è il coordinamento cittadino di Forza Italia. Della riorganizzazione del trasporto urbano a Sulmona non se ne percepisce nulla. I servizi rimangono da terzo mondo ed ora anche mezzi ormai datati e fatiscenti non fanno rientro nella rimessa alla zona industriale, fa notare il coordinatore Antonio Menchinelli spiegando che i cittadini in questo weekend hanno assistito a un minibus abbandonato presso Porta Pacentrana come fosse un biglietto da visita per l'accesso dei turisti al centro storico. Lo stesso minibus in avaria è risultato aperto e fermo privando l'accesso davanti a un posteggio per disabili. Al peggio non c'è mai fine per il trasporto pubblico in città e per quanti lo utilizzano per gli spostamenti giornalieri. Dopo la gara andata deserta per l'acquisto di due nuovi mezzi, i vecchi Pollicino dimostrano la propria fedeltà alla città, tanto da frequentarla anche nei periodi notturni. I due nuovi bus si andavano ad aggiungere 23 mezzi disponibili per il comune di Sulmona, di cui 19 autobus e 4 scuolabus. 12 di essi sono regolarmente funzionanti e 4 in riparazione. Altri 4 mezzi sono praticamente da demolire, mentre 3 di loro sono in stand-by, nel senso che bisogna ancora decidere la loro destinazione. Gli autisti chiamati a condurre mezzi comunali sono 14. Il rinnovo del parco mezzi si rende quanto mai urgente alla luce di disservizi e proteste più volte finite alla ribalta della cronaca. Altri due bus dovrebbero arrivare dopo l'accordo stipulato fra comune e regione, che prevede un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro, ma i tempi anche qui restano incerti.